Previamo. O Dio, che la nottisa pedelina della fede hai dato in Maria Vergine l'immagine della futura gloria con i cieli dei pepereni che ripresentano questa sua icona, di poter sempre alzare gli occhi con fiducia verso di Dei. Fuggi l'ottetto di YouTube per tutto il popolo tedesco. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.